Per noi è un giorno molto importante perché siamo molto vicini ai giovani, infatti sono da diversi anni che collaboriamo con più istituti e anche con università per far avvicinare i giovani nel mondo del lavoro in età ancora 18, 19, 17 anni, per far capire che probabilmente se è il loro futuro o andare avanti con l'università. Chiaramente stare in azienda significa scendere proprio nell'atto pratico e abbiamo poi anche in certe situazioni si sono trasformati anche in lavoro per i dipendenti che inizialmente sono venuti solamente 40-80 ore a curiosare per quello che la scuola ci rimetteva a disposizione. Quindi il fine di questa giornata sicuramente è far conoscere a tutti che è l'azienda MIV, da sempre, molto vicina ai giovani, proprio con il fine di creare un'occupazione e arricchire sempre di più quelle che sono le conoscenze in un settore che, ahimè, nella Val Vibrata siamo forse una delle poche nel settore metalmeccanico, quindi diciamo siamo molto onorati di aver avuto l'occasione di poter partecipare e rendere la nostra sala e anche il nostro stabilimento alla conoscenza di questi giovani. Quali sono le caratteristiche cercate nei giovani da assumere? Allora, le caratteristiche importanti in un giovane deve essere innanzitutto la curiosità, porsi un obiettivo in quello che è la sua vita, di un domani, il suo futuro del lavoro, imparare molto bene anche l'inglese perché oggi è fondamentale molte riviste tecniche e anche i disegni che arrivano, noi lavorando per l'Europa, anche in America, quindi anche i disegni stessi arrivano in lingua, quindi è ovvio che è fondamentale. Poi è chiaro che nel mondo del lavoro, se si ha veramente la passione, la curiosità, non è escluso che da un semplice dipendente possa diventare, come è già successo, un caporeparto e essere un responsabile di una squadra di lavoro.